Ciao! Grazie ai nostri video risparmi già molti soldi ogni anno. Risparmia anche sulle parti di ricambio della tua auto. Comprali sull'app Mr. Auto. La spedizione è gratuita! Trovi i tergicristalli bulk usati in questo video solo sul sito Mr. Auto e nel link nella descrizione. Spegni l'auto e tira il freno a mano. Solleva il braccio del tergicristallo. Per togliere la spazzola, premi il bottone e falla scivolare verso fuori. Prendi la nuova spazzola e installa l'adattatore che ti serve per montarla. Per inserire la nuova spazzola, fai come quando hai tolto la vecchia e falla scivolare lungo il suo invito. Sentirai il clic del bottone quando si incastra. Alza il braccio del tergicristallo e fai ruotare la spazzola di 45 gradi. Spingi la spazzola a quei pollici per sganciarla. Prendi la nuova spazzola. Per inserire la nuova spazzola, fai come quando hai tolto la vecchia e falla scivolare lungo il suo invito. Sentirai il clic del bottone quando si incastra.